E noi veniamo sicuramente da tantissime città d'Italia, da sud, dal centro, grazie, salutiamo anche il signore che ci saluta dalle finestre. Diciamolo, solo per essere riusciti a venire qui oggi, già sono due risultati straordinari. Il primo, essere state accolte e accolti questa mattina da delle signore con la bandiera della pace che ci davano il benvenuto a Pontida, felici di non essere chiute in quell'isolamento che invece il sindaco desiderava per questa città. Chiusura e isolamento. L'altro risultato straordinario, meraviglioso. Ragazzi, sono decine di anni che non succedeva. Quella scritta, indecente, che ha offeso per il solo essere qui, su un muro enorme, padroni a casa nostra, non c'è più. Finalmente è rotto quel muro! E noi veniamo da Venezia. Oggi è la giornata dell'orgoglio anche dei terroni del nord. Noi veneziani siamo sempre stati chiamati terroni del nord perché la Lega a Venezia non è mai riuscita a sfondare. Non ce l'hanno mai fatta. Eppure portavano proprio da qui un'ampolla per un rito magico. Bene, voi dovete capire per quanto sia per noi veneziani una giornata memorabile oggi. Essere qui a Pontida e aver finalmente rotto quell'incantesimo che ha raccontato per vent'anni che la Lega avrebbe costruito l'autonomia dei territori, la capacità per noi di decidere. Noi lo sapevamo, siamo dei centri sociali, lo sappiamo da mo' che erano cazzate. Ma ormai che questa è una bugia che non regge più. Se ne è accorto tutto il mondo. E tant'è vero che oggi finalmente le nostre bandiere, quelle di San Marco, di Venezia, quelle che la Lega ha provato per anni ad utilizzare come immaginario, non regge più. Questa bandiera di San Marco è nostra. L'abbiamo dimostrato il 19 marzo con 5.000 persone insieme a tutti i cittadini stranieri che in Veneto devono trovare un'accoglienza degna come in tutto il resto d'Italia. Ed è per questo che siamo venuti a Pontida insieme a persone da tutta Italia. Ed è per questo sempre che tra tre giorni, il 25 aprile, noi saremo in piazza per San Marco e con San Marco, con le nostre bandiere, i centri sociali del nord-est, si riprendono anche quella piazza. Grazie a tutti.